Questo è un virus che ti prende un po' alla volta, senza che tu te ne accorgi. E quando te ne accorgi può essere tardi. E' questa la pericolosità di questa malattia. Non c'è ancora il vaccino, non c'è una cura specifica per questa malattia. Senza vaccino, senza una cura specifica per il Covid, bisogna stare attentissimi. Sta meglio il prefetto di Venezia Vittorio Zappalorto. Sabato è stato dimesso dall'ospedale civile San Giovanni e Paolo. Il Covid però è stato un calvario che ha attraversato quasi tutto il mese di novembre. Come spesso avviene col coronavirus, è difficile stabilire dove e come sia avvenuto il contagio. Quel che è certo è che a inizio mese il tampone ha confermato i sospetti su quei sintomi che fino ad allora erano stati molto leggeri e lo erano rimasti anche la settimana seguente in isolamento a casa. L'allarme è arrivato da un collasso cardiocircolatorio che ho avuto e lì il medico mi ha fatto ricoverare via d'urgenza perché avevo già un polmone che era fortemente interessato. E' trascorso anche un periodo in terapia intensiva? Ho trascorso quattro giorni in terapia intensiva, due dei quali con il casco e due e mezzo. L'ultimo l'ho passato senza il casco. Sono rimasto quattro giorni complessivamente dal 19 al 22. Se non avessi avuto quel collasso, quel segnale che lo ha fatto intervenire in tempo, dice oggi Zappalorto, forse la sua situazione si sarebbe compromessa. Al civile di Venezia è stato ricoverato sia il reparto Covid del professor Bonanome che di rianimazione e terapia intensiva del dottor Maggiolaro. Strutture tecnologicamente avanzate e sensibili dal punto di vista umano, ma la terapia intensiva rimane comunque un'esperienza forte dove perdere un vicino diletto che non ce l'ha fatta è una costante drammatica. Che cosa si pensa in quei momenti? Questa è una bella domanda. Si pensa a tutto, a tutta la vita. Si pensano anche agli amici di quando avevi tre anni, a tutto quello che hai fatto, a tutto quello che non sei riuscito a fare. Si pensa a tutto.